Il rilancio dell'economia e la rivitalizzazione del centro storico dell'Aquila non può avvenire a discapito dei lavoratori. È a ridosso della festa del lavoro, mercoledì 1 maggio, che la Filcams CGL lancia un nuovo allarme sul rischio che i nuovi progetti di rinascita delle attività commerciali del centro storico vengano realizzati senza il rispetto dei diritti dei lavoratori. All'entusiasmo del nascente movimento dei negozianti del centro che vogliono trasformare il cuore della città in un nuovo centro commerciale naturale accogliente verso i turisti che affollano le strade in questa primavera del decennale del sisma con apertura dei negozi anche in tutti i festivi e le domeniche risponde Luigi Antonetti della Filcams CGL dell'Aquila. Il sindacalista propone una turnazione tra negozi per dare respiro ai dipendenti. Noi non siamo d'accordo, noi saremo d'accordo magari a un incontro anche con i commercianti, anche con Confcommercio, con Confcommercio, per cercare di discutere una soluzione alternativa ma che deve essere solo provvisoria perché comunque per il lancio un po' di questo centro storico o tipo a un'apertura magari con un turnover per queste piccole aziende, anche se comunque rimane difficile per noi parlare di questo perché comunque storicamente noi siamo contro le aperture domenicali e festive. Turnover in che senso? Ma nel senso che se nel centro storico dell'Aquila oggi sono aperte 10 attività, 20 attività che fanno attività di commercio, cercare di capire quante sono le festività nell'anno in cui necessita di stare aperte e fare un po' turno, un calentario dove in alcune festività sono aperte 4 attività, in altre festività sono aperte altre 4 attività e le altre 4 stanno chiuse. Quindi a rotazione è un po' fare questa sorta di turnover, però anche su questo bisognerebbe un attimo discuterlo ma questo non deve essere finalizzato solo a fastaverti questi negozi, a queste attività ma soprattutto deve essere finalizzato anche a un incremento dell'occupazione perché altrimenti parleremo solo di profitti dell'azienda e non sarebbe la stessa cosa. Intanto anche quest'anno contro le aperture indiscriminate delle attività commerciali soprattutto della grande distribuzione, è partita l'iniziativa sindacale unitaria dello sciopero delle festività che coinvolge migliaia di lavoratori in tutta Italia.